Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Riconoscenza per i fratelli che si sono consacrati al Signore con voti di povertà, castità ed obbedienza è stata espressa dall'Arcivescovo di Pescara Penne e Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti a Radio Speranza in occasione della diciannovesima giornata per la vita consacrata che l'Arcidiocesi ha celebrato ieri. E' un dono prezioso quello che loro fanno all'interno della diocesi, soprattutto il servizio che svolgono in tante situazioni che altrimenti rimarrebbero scoperte, ha detto il presule, che ha sottolineato l'età media piuttosto alta dei religiosi e delle religiose, e ai giovani che sentono la chiamata ha chiesto apertura di cuore per rispondere senza riserve a quanto il Signore chiede. Ne parleremo ascoltando l'intervista a servizio di interviste oggi alle 18.13 e domani, stasera sempre, scusate, alle 21.15. L'Abruzzo è tra le regioni più verdi d'Italia, quarto nella classifica che riguarda l'indice di Green Economy, cioè economia verde, elaborata da Fondazione Impresa. Nel 2014 è salita di quattro posizioni quella dell'Abruzzo, dopo Trentino, Alto Adige, Marche e Valle d'Aosta, c'è appunto la nostra regione. Lo studio utilizza 21 indicatori, tra cui energia pulita, risparmio energetico, bioagricoltura, eco, edilizia, licenze, ecolabel, piste ciclabili, turismo ecologico, vendita di prodotti bio, riciclo, rifiuti. La quantità di rifiuti in discarica è più bassa della media nazionale. I 19 imputati del processo in corte d'assisi a Chieti per la megadiscarica dei veleni di Bussi sul Tirino sono stati assolti da reato di avvelenamento doloso, dalle accuse di falda, perché non vi era alcuna ragione sotto il profilo dell'interesse personale dei singoli imputati, ma anche nell'ottica di una sorta di interesse superiore ed unificante, estrinsecantesi in direttive date in attuazione della politica di impresa, volta a minimizzare i costi per la tutela ambientale, che potesse in alcun modo giustificare la scelta, volontaria e consapevole, di avvelenare le acque di falda e munte al campo Pozzi. Queste le testuali parole dei giudici, secondo cui dunque i 19 imputati non avevano interesse ad avvelenare quelle acque in maniera volontaria, ma non c'era neanche un interesse superiore che in qualche maniera abbia potuto influenzarli. Un milione di euro per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nei comuni dell'Unione Val Vibrata, dopo il Via Libera da parte della Regione Abruzzo, al progetto presentato lo scorso mese di settembre. Aspetti innovativi sono rappresentati dalla comunicazione all'utenza e dalla realizzazione di un sistema di localizzazione satellitare e la tracciabilità, cioè la possibilità di rintracciare il servizio di raccolta attraverso una piattaforma WebGIS base di partenza per arrivare ad applicare la tariffazione puntuale. La crisi del credito, cioè di quanto viene fornito dalle banche, ha un nuovo epicentro tra Abruzzo, Marche e Monise. Secondo i dati dell'ufficio credito della Direzione Generale di Confesercenti, infatti, è proprio nelle regioni del Medio Adriatico che si va verificando la peggiore performance dei finanziamenti alle imprese. Sofferenze delle imprese al 37,2% in più nel settembre 2014 rispetto all'anno precedente. Preoccupa la dinamica tendenziale annua delle sofferenze. L'ordine, le sofferenze, lo ricordiamo, sono tutte quelle situazioni in cui le imprese non riescono, se non con difficoltà, a far fronte ai prestiti che hanno ricevuto dalle banche. Rispetto all'anno precedente, nel settembre 2014, la media nazionale inizia a manifestare una piccola decelerazione, cioè una crescita meno veloce di prima, attestandosi a più 26,2%. L'Abruzzo, invece, conosce il suo record e segna un più 37,2%. Progettazioni di reti wireless, cioè senza fili, applicazioni nella spettrometria di massa, tecnica di analisi impiegata nella valutazione di radioattività nei materiali, sono i temi dei corsi online gratuiti allestiti dai laboratori nazionali del Gran Sasso nel progetto La Società della Conoscenza in Abruzzo, in programmazione 2007-2013 delle azioni previste dal Fondo Sociale Europeo. Giovedì 5 febbraio, giornata di orientamento per illustrare modalità dei corsi ad Assergi dalle 9.30. La presentazione cui abbiamo assistito ha segnato l'avvio di una campagna di sensibilizzazione a favore dell'AIRET, Associazione Italiana Sindrome di RET. Lo dichiara l'assessore al commercio di Montesilvano, che sabato, con sindaco e vice sindaco, ha partecipato alla presentazione del videoclip girato a Montesilvano, Occhi che cantano, canzone scritta da Simone Pavone e interpretata da Fabrizio Fasciani. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Montesilvano, vuole raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla sindrome di RET, patologia progressiva dello sviluppo neurologico di origine genetica, nota come sindrome delle bambine dagli occhi belli. Aveva soli 17 anni, Micol Cavicchia, quando scomparve per una malattia fortemente aggressiva. A lei che non si è mai arresa e ha combattuto fino all'ultimo istante con speranza e ottimismo, il Comune di Montesilvano ha scelto di intitolare l'area verde di Via Brenta, con una delibera licenziata oggi dalla Giunta Maragno. Appassionata di poesia e scrittura, Micol era una ragazza che ha saputo interpretare e non celare alle persone che l'amavano le sue fragilità, ha dichiarato il primo cittadino. Micol è stata e deve ancora essere, soprattutto per i più giovani, l'esempio di come affrontare il proprio futuro. Già positivo il bilancio del progetto ACU 2015, l'Aquila e lo sport avviato all'inizio dell'anno scolastico e realizzato dal CONI Abruzzo nelle scuole del cratere della regione selezionate. Al programma sportivo stanno partecipando i circa 180 alunni della scuola primaria di Torre dei Passeri che la settimana scorsa hanno mostrato ai genitori ed insegnanti le loro abilità motorie. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, punta a riportare al centro delle agende scolastiche la questione dell'alfabetizzazione motoria dopo il sisma del 2009. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevede cielo sereno con temperature da 0 a 7 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo molto nuvoloso con temperature da 3 a 11 gradi e venti moderati. Il mare è previsto mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia, la parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti!